Il Lido di Bodio Lomnago ha ricevuto veramente tantissimo interesse soprattutto non solo dai cittadini del nostro paese ma anche da tutta una serie di persone che hanno saputo di questa novità e hanno approfittato per poter fare il bagno nel lago di Varese. L'esperimentazione ha funzionato ma poter allargare a tutto il lago di Varese la bagneabilità è veramente il nostro desiderio più grande e credo proprio che ce l'abbiamo fatta l'anno prossimo sarà proprio così. Bisogna forse cambiare un po' la cultura della gente che non è abituata a fare il bagno nel lago quindi magari fa anche domande legate proprio alla tipologia di fondale a quello che trova nel lago perché il lago insomma non è il mare. Il lago di Varese non è il mare questo sì però devo dire che quest'anno abbiamo avuto proprio prova della trasparenza e soprattutto del fatto che sia veramente pulita. Io ne sono appunto la prova vivente ho fatto il bagno sia al Lido di Varese che a Bodio e devo dire che è stato veramente una piacevole scoperta non lo avevo mai fatto ed è stata questa la prova per me per dire sì si può fare deve continuare.